Decisa stretta dei carabinieri della compagnia di Fano contro i riati predatori verso il patrimonio. Una serie di controlli lungo le arterie principali del territorio ed in luoghi sensibili hanno portato al ritrovamento di diverse aree furtive all'arresto di un 32enne di fossombrone evaso dai domiciliari. I militari della stazione di Fano nella giornata di ieri verso le 16 hanno controllato e ispezionato una casa colonica abbandonata lungo viale Piceno, già in passato luogo di dimora clandestina. Trovandovi due cittadini rumeni, un uomo di 62 anni ed una donna di 36 senza documenti ed in possesso di una bici elettrica del valore di 2000 euro, risultata essere poi stata rubata il primo di ottobre ad una donna fuori dall'ospedale Santa Croce di Fano. I due sono stati denunciati e l'uomo anche con l'accusa di false generalità. I carabinieri di Cogli al Metauro hanno denunciato altresì un 52enne forse empronese fermandolo a un posto di blocco a bordo della sua auto nella quale i militari poi hanno trovato ben sette cellulari di ultimissima generazione, di valore elevato e di varie marche, nuovi fiammanti per il possesso dei quali l'uomo non ha dato convincenti spiegazioni ai militari. Rinvenute anche all'interno dell'auto altre due tessere sanitarie, risultate rubate nell'estate del 2018, schede di memoria SD, due automizzatori per sigarette elettroniche nuovi e all'interno della bictacola occultata una pistola salve calibro 8 senza tappo rosso con il caricatore carico di colpi ed uno in canna. Arrestato invece dai colleghi di Fossombrone, il 32enne ai domiciliari per furto sorpreso in piena notte fuori dal domicilio dove stava scontando la misura cautelare. Arresto convalidato poi dal tribunale di Urbino e l'uomo portato nel carcere di Pesaro dove sconterà il resto della pena.